non ci posso credere ciao jammy ciao sogno vediamo un po' questo lo odio raga però questo lo odio però dovrei prendere un altro tutore per questo dito vediamo un attimo ciao zirza dai però se non mi tenete già faccio fatica poi se mi tenete cazzo che culo oggi sono arrivata fino qua raga c'ero quasi porca troia grazie zio pino ma questa non è giusta cazzo di buddha zoccola tua madre a pecora no 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 e dove cazzo devo andare nooo e dove dovevo andare no sono ancora qua però un po' ha migliorato eh mi dispiace jammy cosa hai fatto allora ciao zirza ma da porca gnoffa ero quasi al traguardo eh ora ero quasi al traguardo io non me lo vorrei dire ma no no io non la guardo di una grande devo andare a prendere un mollettone porca miseria che caldo dovevo saltare su quella cosa mi sa eh forse dovevo saltare su quella cosa grazie kd grazie kd grazie caro no non ce l'abbiamo l'aria condizionata no si dovevo saltare su qualcosa ma naia la fataglia vediamo un po' io ci provo sempre e la prossima volta se ci arrivo ci proviamo ragazzi ci proviamo guarda che sono migliorata eh vai vai arrivasta arrivo va bene sappiamo per la prossima volta se ci arrivo sperando che ci arrivo per me questo è migliorare anche di tanto grazie anch'io spero di riuscire più o meno a migliorare in tutti i livelli anche se non è facile punto esclamativo mod ma che non è facile moderare grazie jampro salto in a tempo in aria rimani più tempo possibile nella parte gialla ciao sono gab vediamo un po se ce la faccio io sto bene salva e tu vediamo un po ciao tosta pane io sto bene tu e va bene ma proprio così proprio ciula